Oggi mangiamo in campagna Chiudi chiudo a sportello Bene bene chiudelo Credo che c'è pure l'Umi però Quella dietro è di Tommaso Che loro mi sa la pasta Io ho fatto i peccuccini e i cannelloni Non la pecora i cani ti mangiano Ma non c'hai paura di vestirti con una cosa da pecora Guarda che i cani ti mangiano Si Già che c'hai paura dei cani Immaginati Che quelli ti rincorrono e pensano che sei una pecora Perché sei pure morbida Era quella che volevi te Natascia Eh lo so Che sta a te questa Lo so che mi sta a me Mi sta a me Dietro la macchina di Tommaso Quindi è venuta l'Umi? Mi puoi tenere la mascherina Tanto non ti serve Andrea Che sei lì? Che sei lì? Andrea Che sei lì? 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 sal potativa ciao e che te lo vuol dire è bella se e 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 poverina poverina e 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 come cammina e come cammina c'è lex e 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 che mi dici fa caldo? e 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 un po' che c'è qua Andre sali? sali qua sopra bravo sali e non vuoi sali andrea dai ah ciao ciao andiamo in superficie? no i 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 ti piace ti piace questo Andrea questo è il luogo che ci mangeremo dopo pranzo credo io questo video credo che ci vorrà cent'anni per metterlo che bello che bello che bello che bello tutto è fuori oddio è tutta attivata lei amore che che ha che che il cane se il cane lona Grazie a tutti Andrò tenere così perché non so se ci sono gli insetti Sally Ti piace? No, noi li sciacquiamo noi Sistemiamo tutto noi Adesso gli diamo una sciacquata Chi hai portato? Il fiore? Sì Per farlo giocare C'era io una volta una pallina di golf Quella che gli ho dato per i cani Quella le fa finire, le morde Le morde si rompono subito E lo so No, Andrea No, sei bagnata? Aspetta Lascialo un po' sul tavolo Che casca un po' l'acqua Poi li mettiamo Lascialo un po' là E si asciugano quei tuaioli puliti Quelli di carta Vabbè, due tuaioli Certo Tanto ce l'avemo Noi ieri C'è Andrea Ma Se tu mi dicevi Ma io con Tommaso ho pensato di prendere per cinese Perché ci serviva pure a noi A casa E io li uso Tutti i giorni lo vai piati A saperlo No, basta E' un salvatore Perché in altri due o tre ce l'ho io Questo gioco E' un salvatore Sellona Che carina Che bello Oddio Cavolino Se arriva nonno mi stacca il pancino Che bello Che bello Che bello Che bello Questa non è un passeggiatto, questa è una sporca girata, quel cacchio di battute faccio. Questa è una sporca di salsicce, c'è una sporca di salsicce, che non le hai comprate. Andrea, ho fatto il sugo, mi ha servito per farci tutto. No, no, aspetta, ce l'ho i piatti, a busta che ti ho dato. No, basta i piatti. Ah, ce l'ho tutta la busta. C'è l'ora. Ma lei perché è fissata, è fissata tu, moglie. Quanti anni che state insieme? Settantadue, sono quasi cinquant'anni, eh? No, di più. Cinquant'uno, di più no, settant'altro è nato Tommaso, ha quarant'nove anni e fa cinquanta adesso, capito? Sono cinquant'uno, così, cinquant'adue. Ah, mi vedi? Tu ci si arrivi che l'hai sopportata. Come hai? Scusa, sello. Andrea? Troppa roba ho portato nonna, vero? Troppa, ma io ho detto la carne si mangia. Se noi mangiamo sta roba, la carne chi lo mangia? Già che io mangio poco. Io mi devo lasciare un stomaco libero. Già che io mangio poco. Pure io. Ma vedi grassa, però... Hai capito che ha detto pure tu un nipote? Ha detto. Ma è vero che troppa roba ci ha portato nonna? Ma non voglio sapere che faccia hai fatto. Che faccia ha fatto nonna?